Mi trovo qui in questo momento con il mister, il capitano del Modesto Domo, partita tiratissima, ci si è portato a fine i rigori, ce la racconterà il mister. Bella partita, non me li aspettavo così forti gli avversari guardando la loro classifica, sesti nel loro girone, si è sempre stati in vantaggio loro a rincorrere, però sono riusciti a pareggiarlo nei 60 minuti e poi abbiamo vinto i rigori, primo tempo 2-2, poi 3-2 noi subito inizio secondo tempo e nel finale abbiamo preso il 3-3 su un tiro che abbiamo concesso da fuori aria e poi i rigori. Capitano, sapete già contro chi giocate la prossima e come la vedete? Contro l'Arcadias mi sembra, è una partita tosta, sono una bella squadra anche loro, sarà un'altra partita complicata come quella di oggi, l'abbiamo già incontrato in campionato, abbiamo vinto l'annata, abbiamo perso il ritorno, anche se il ritorno eravamo contati ma loro sono un'ottima squadra, quindi sarà difficile e dobbiamo dare il meglio per poter passare al prossimo turno. Comunque adesso le play-off sono tutte partite tiratissime, tutte belle partite, finalmente anche quest'anno ci siamo. Dai ragazzi, in bocca al lupo per le prossime e sempre così. Grazie. Speriamo mille. Ciao, grazie.